Sono Antonio Frighi, sono il direttore tecnico di Acer Bologna. Il quartiere Pilastro, un quartiere a nord del capoluogo, è sorto all'incirca ai primi anni 60, con una progettazione tutta bolognese, ed era sorto con una idea abbastanza romantica di realizzare un cosiddetto villaggio medievale rurale e nucleato dalla città con delle caratteristiche di autosufficienza. Il diverso orientamento storico e sociologico di quella che è stata l'attività urbanistica di una politica illuminata che ha però risentito degli errori tipici dell'epoca. Nel Pilastro sono stati realizzati esattamente 3.151 alloggi. Nel corso del tempo, con le varie leggi che hanno sempre favorito fino a un certo punto la vendita degli alloggi popolari, non dimentichiamo che la Casa Popolare era uno dei pilastri della politica di welfare della nazione. Prevedeva esplicitamente il favorire che una famiglia poco abbiente pagasse un affitto limitato e potesse anche crescere economicamente e permetterci l'acquisto della casa. Gli alloggi in totale sono 2.056, dei quali un migliaio sono stati riscattati e 977 sono rimasti in affitto. Di questi 977 ne abbiamo 849 occupati e 120-130 sfitti. Molti anni fa c'era l'iconografia classica in cui la famiglia entrava nelle case popolari per restarci, per crescere, per crescere i figli, per crescere anche economicamente. Ora invece non è più così. C'è una trasmigranza molto più veloce. Si entra, ci si sta a volte un anno, a volte anche qualche mese, poi ci si trasferisce. Non c'è più la stanzialità della famiglia all'interno della casa popolare, ma c'è una dinamicità molto molto accentuata, il che pone dei grossi problemi e anche dei costi che sono diversi da quelli che ci si poteva aspettare anni fa. Ci sono anche delle unità non residenziali, al Pilastro sono presenti 45 negozi o locali commerciali vari, di cui 30 sono occupati e 15-16 sono attualmente sfitti e ci sono poi 780 posti auto o auto rimesse. Il quartiere del Pilastro, come tutte le grosse concentrazioni di popolazione, ha dei problemi di convivenza, ha dei problemi di anche ordine pubblico. Però per esempio noi abbiamo partecipato a uno studio internazionale che ha preso in esame due quartieri, il quartiere di Pilastro a Bologna e il quartiere di Rosengarten a Malmo in Svezia, quindi con un paese che almeno teoricamente ha un servizio di welfare impeccabile, esempio a livello mondiale, ebbene posso dirvi che il quartiere di Rosengarten a Malmo, storicamente il quartiere famoso perché lì è nato Zlatan Ibrahimović, ha dei problemi di ordine pubblico nettamente superiori a quelli del quartiere Pilastro. Siamo sostanzialmente il braccio operativo dell'amministrazione comunale di Bologna, quindi noi non abbiamo un patrimonio tale da poter generare risorse che ci consentano di fare investimenti in autonomia. Noi gestiamo quello che è il patrimonio del Comune di Bologna e mettiamo in atto le politiche che il Comune di Bologna pone in essere all'interno dei propri programmi di mandato e tutto. Ovviamente attraverso una nostra società partecipata al 100% che è Acer Servizi, che è una società interamente detenuta, che si occupa delle gestioni delle unità residenziali immobiliari non residenziali e c'è Acer Promos, che invece è la nostra società partecipata, che è a maggioranza pubblica, che si occupa degli interventi di manutenzione. Ovviamente quello che è il canone di locazione che viene ipotizzato per gli esercizi commerciali o comunque non residenziali è un fattore che viene identificato in un certo contesto storico e poi è anche soggetto a revisioni qualora non dovesse essere locato. Tanto per essere sinceri noi preferiamo abbassare il canone di locazione piuttosto che tenerlo vuoto. Ovviamente siamo anche soggetti a un controllo pubblico di quello che è la gestione della finanza, comunque di un organismo di diritto pubblico. Quindi non possiamo certo affittarli a dei canoni che potrebbero essere detenuti troppo bassi e esporci a rilievi da parte della Corte dei Conti che sarebbero particolarmente impattanti per quello che è la nostra attività. Lo IACP non è stato sempre IACP, come potete vedere anche dal nome. Il tutto è sorto tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90. A livello nazionale si incominciò a definire gli IACP come carrozzoni o a identificarli come semplice e bieco strumento di fabbricazione del consenso elettorale. La prima regione a attuare la trasformazione degli IACP in aziende è stata il Veneto, con una legge del 1995. Immediatamente dopo si è incominciato a parlare della riforma dell'ER in Emilia Romagna. E la legge è stata approvata l'8 agosto del 2001, la famosa legge 24, che ha trasformato gli IACP in aziende. Ovviamente ogni regione, libera di fare ciò nell'ambito del decentramento amministrativo, la regione Emilia Romagna ha sostanzialmente devoluto l'intero patrimonio costruito dagli IACP ai comuni. Quindi i comuni sono diventati proprietari delle case popolari costruite sul loro territorio. Agli stessi comuni è stata data facoltà, unico caso in Emilia Romagna in tutta l'Italia, facoltà non obbligo, facoltà, di devolvere a loro volta in gestione, quindi di retrocedere per la sola gestione, le case popolari alla neonata azienda Casa Emilia Romagna. Ovviamente in questo passaggio di ritorno, chiamiamolo così, i comuni hanno anche potuto aggiungerci altro patrimonio residenziale che avevano nel frattempo costruito con i propri mezzi, con le varie leggi, acquisito gratuitamente perché è costruito dallo Stato, dal genio civile, un po' tutto quello che è capitato. La Cera è nata nel 2001 e quindi c'è stato un lavoro importante di catalogazione, di verifica patrimoniale, di stima del patrimonio, perché sono stati atti notarili con cui lo IACP ha trasferito ai comuni l'intero patrimonio di cui era titolare e a loro volta gli IACP, i comuni, hanno poi fatto delle convenzioni con Glacier per la retrocessione, per la gestione di parte del patrimonio, di tutto il patrimonio, di più del patrimonio. Noi ci adeguiamo a quelle che sono le normative stabilite dalla Regione. Preferirei fare mio un pensiero abbastanza delicato che ha fatto il senatore Renzo Piano. Le nostre periferie vanno rammendate. Bisogna intervenire con delicatezza, bisogna intervenire con lungimiranza, bisogna intervenire senza pensare al profitto o senza pensare troppo al profitto. E questo, a mio avviso, sempre accende un altro faro su un fenomeno che non possiamo non evidenziare. In molti altri paesi è possibile investire dal punto di vista privatistico, quindi con un'ottica a un profitto di equilibrio, non di speculazione, in prossimità o in completamento o anche in integrazione di quartieri di edilizie popolari. In Italia questo è storicamente impossibile. Nel momento in cui un imprenditore privato dovesse cercare location per investire del patrimonio, per cercare di realizzare profitto, la prima cosa che guarda, gliela posso garantire, ci sono delle carri popolari vicino? Sì, allora no, allora è meglio andare dall'altra parte. Per cui spesso le amministrazioni comunali devono operare, come si dice qui, in camuffa, cioè fanno il grande piano, fanno intervenire gli investitori privati, poi dopo alla fine mettono dentro un pochino di case popolari che comunque non fanno mai male. L'ACER per nostra fortuna, e lo dichiaro con un orgoglio personale, perché ho avuto esperienze professionali in diversi ex IACP, comunque ora siano denominati, noi siamo uno dei pochissimi esempi di ex IACP che ha un portafoglio di progetti, di interventi, di cantieri a medio termine, mentre quasi tutti gli altri IACP sono ripiegati sulla semplice gestione dell'esistente. Ovviamente noi operiamo nell'ambito delle politiche poste in essere dal Comune di Bologna, però per quel poco che ho potuto occuparmi io di urbanistica, tenga presente che faccio un altro mestiere, io sono quello che deve portare a termine gli interventi puntuali pensati dagli urbanisti all'interno di un disegno territoriale più grande. A mio avviso il pilastro ha bisogno di servizi, è quella la richiesta che viene dalle persone che ci sono, ha bisogno di sentirsi non diverso dagli altri e quindi credo che ci sia una mancanza di servizi, di servizi di qualità, non del solito servizio che porti a farti sentire ancora più, diciamo così, emarginato di quanto tu non sia di più. Per tornare poi al discorso degli esercizi commerciali, spesso gli esercizi commerciali soffrono anche di un paradosso che è generalizzato, ok? Qui ovviamente sto esprimendo dei pareri personali perché è lungi da me l'idea di poter vantare di avere una professionalità economica specifica per poter dare dei giudizi e quindi tracciare anche dei percorsi per il futuro. Spesso l'attività commerciale viene intrapresa forse con troppa facilità, senza fare una analisi abbastanza serena ma approfondita di ciò che serve in un contesto principalmente, ma anche ciò che sei in grado di fare tu in quel contesto o per quella specifica attività. Quindi è probabile che cinque soggetti affittino cinque locali per fare cinque bar e che scoprano che dopo questi cinque bar sono uno appiccicato all'altro e finiscano o per non aprirli o per chiuderli perché non hanno pensato che forse potevano fare qualcos'altro. Ad esempio, mi viene da pensare che stiamo assistendo alla scomparsa dei mestieri artigianali, mestieri nobili che consentono tranquillamente una sopravvivenza più che dignitosa. Noi dobbiamo rispondere del nostro bilancio e dobbiamo rispondere al tavolo di concertazione delle politiche metropolitane. Però io non mi vergognerei se fossi l'ACER e se fossi coinvolto in un discorso complessivo di servizi coinvolgendo l'USL che mi risulta per esempio che possa erogare anche dei contributi a medici che si raggruppino insieme per fare un piccolo centro di medicina comune o condivisa. Non mi tirerei indietro se il Comune di Bologna mi invitasse a perché no? Potrà suonare come una cosa fuori dal tempo ma se la politica che spesso viene a mio avviso abusivamente conclamata con la P maiuscola ci invitasse a fare la nostra parte riducendo anche possibilità di introito a fronte anche della concreta eventualità di mettere in difficoltà il bilancio ma per fare la nostra parte per il territorio io credo che ACER non si tirerebbe indietro a entrare a far parte di un progetto in cui certi suoi spazi commerciali perderebbero l'importanza di sostenere un bilancio comunque pubblico perché svolgerebbero una funzione pubblica che non può essere commisurata in introito o in affitti ma ha un valore decisamente più alto. Ebbene in tutti questi quartieri ci sono lamentele, rivendicazioni nel momento in cui viene anche offerta concretamente la possibilità di spostarsi questa viene negata. C'è quasi una rivendicazione di orgoglio che viene definito l'orgoglio della riserva indiana no, sono un pilastrino e rimango al pilasto perché messi di fronte all'alternativa cruda ok, va bene, prendi questo è un appartamento nel quartiere Savera no, non ci vado. Non so se voi avete riscontrato questo tipo di mentalità ma io per esempio in quelli che sono ad esempio le risultanze dei numerosi progetti di ricerca ecco una cosa che ci tengo a dire noi partecipiamo per definizione quindi senza bisogno di decisioni politiche puntuali a tutti i programmi di ricerca universitari che ci vengono per i quali ci viene richiesta la nostra partecipazione. Ovviamente abbiamo dei requisiti obbligatori per la partecipazione. Primo, devono essere attività attinenti a quella che è la nostra missione istituzionale perché non possiamo fare altro secondo, non possiamo spendere dei soldi perché io non gestisco soldi di Acer ma gestisco i canoni dei comuni quindi se fosse chiesto ad Acer una partecipazione in denaro sarebbe giusto coinvolgere il comune per sentire se non vuole condurre lui direttamente questa partecipazione di ricerca. Bene, ci sono diversi guardi io partecipo perlomeno a 4 o 5 programmi di ricerca a livello universitario che coinvolgono il pilastro. Sono ovviamente adesso mirati a quello che è il contenimento dei consumi a quello che è la riduzione dell'impatto economico dei consumi sugli utenti. Nel momento in cui lei parla con gli inquilini delle case popolari oltre il 60-70% del carico economico che grava sulle loro spalle sono le utenze, non è l'affitto e quindi l'aspetto energetico ha un impatto fondamentale sulle loro vite. Quindi io dal punto di vista personale io non sarei tanto propenso a inseguire il miraggio del ZEB il New Zero Energy Building perché credo che economicamente come sistema paese possiamo permetterci il 20% di New Zero Energy Building cioè di fabbricati che siano in grado di produrre l'energia che consumano quindi di non ricorrere al consumo di energia non rinnovabile o comunque di provenienza fossile. Nel momento in cui l'intero patrimonio costruito costituisce più del 40% dell'inquinamento globale che noi abbiamo la domanda che vi faccio è converrebbe di più puntare a pochi esempi luminosi di consumo di energia zero o non converrebbe di più abbattere per quanto possibile il consumo energetico di più fabbricati possibili. In termini globali l'efficientamento energetico dei fabbricati dal punto di vista scientifico ed economico mi viene da paragonarlo allo sci ok? Imparare a sciare divertendosi è facilissimo perfezionarsi è pressoché impossibile quindi l'abbattimento dei consumi anche il 35-40% di un appartamento di case popolari è abbastanza facile costa abbastanza poco viceversa se noi volessimo portare in classe A lo stesso appartamento ci costerebbe una fortuna ci costerebbe molto di più che non demolirlo e ricostruirlo quindi si impone una scelta che cosa vogliamo fare e questo nuovo programma che è stato chiamato Superbonus 110 io spero che sia stato anche concepito con quest'ottica con poco o abbastanza poco si riesce a battere poco consumo ma di una moltitudine di appartamenti che alla fine se li andiamo a misurare in TEP che sono le tonnellate di petrolio equivalenti risparmiate o in tonnellate di CO2 non disperse nell'atmosfera io credo che abbattere del 35-40% il consumo quindi la produzione di inquinamento di una grande maggioranza di appartamenti potrebbe portarci forse a una qualità dell'aria nettamente migliore che non cercare di raggiungere il consumo zero di pochi fabbricati separare la gestione dall'assistenza perché sono due cose diverse e sono due cose a volte antitetiche l'una con l'altra ok? se la collettività ha ragione nel chiedermi di utilizzare i propri denari che non dimentichiamoci sono le tasse di tutti cioè non è che sia una roba fuori dal mondo e ha diritto di chiedere a me che li usi con oculatezza deve anche capire cosa vuole da me perché se da me vuole che io faccia l'assistenza l'assistenza non è fare bilanci l'assistenza è seminare è una cosa diversa allora dal mio punto di vista non ci sarebbe niente di strano però entro in un campo che non è mio faccia conto che siamo al bar e di parlare con un quasi vecchietto che ha bevuto e alla fine si sente mezzo ubriaco e sincero da poter dire tutto quello che gli viene in mente no? con la presunzione di poter essere scusato cioè non me ne fregherbbe niente se chi volesse restare in un alloggio anche aumentando l'affitto perché gli è aumentato il reddito e questa non è vessazione ma è giustizia sociale per contro mi chiedesse di fare l'assistenza a chi è indigente cioè canone zero perché la casa gli deve essere data gratis ma a questa persona gliela diamo gratis per il tempo che gli serve per tirarsi fuori da una condizione disperata ok? e dopo entra in un circuito che ha tutta un'altra virtuosità che allora può veramente diventare il famoso ascensore sociale di cui tanto si parla non credo che ci sia una soluzione semplice a un problema che è complicato perché chiunque potrebbe forse con un po' di demagogia opporsi alla sua riflessione dicendo beh ma io devo fare le case per i poveri lascio un povero sotto un ponte perché uno al pilastro ha trovato la maniera di fare quattro soldi in più e ha fatto bene a farli d'altra parte comprendo che così facendo io metto sempre ostacoli più grossi affinché il pilastro smetta di essere il pilastro perché facendo così faccio sempre in maniera che il pilastro sia sempre pilastro perché più io tolgo appartenenza a un quartiere più io tolgo vita sociale a quel quartiere e quindi nel momento in cui rimetto una linfa nuova è un corpo estraneo che deve adattarsi al quartiere e l'adattamento è lungo è faticoso a volte è doloroso a volte anche come abbiamo visto è sanguinoso purtroppo se devo essere sincero io sono 30 anni che lavoro in questo ambiente ma una soluzione semplice a un problema così complicato non gliela posso suggerire se non quella lasciami fare la gestione dove devo fare la gestione e fammi fare assistenza dove mi dici che io faccio l'assistenza allora io posso anche impegnarmi anche perché sono due mestieri diversi noi abbiamo anche siamo anche poco riusciti a interpretare un fenomeno sociale complicatissimo con la serenità politica che sarebbe servita perché troppo spesso abbiamo gestito le case popolari politicamente o con un eccesso demagogico da una parte o con un eccesso demagogico dall'altra parte